Poteva avere conseguenze ancora più gravi l'incendio che è divampato la notte scorsa in un capannone industriale in località Stampalone di Cellino a Tanasio, in provincia di Teramo. Decisivo l'intervento immediato di due squadre di vigili del fuoco di Teramo e Roseto degli Abruzzi accorse intorno alle 23.30 presso lo stabile di circa 2.500 metri quadrati che stava andando in fiamme. Complessivamente sono stati impiegati 15 uomini con un'autopompa, due autobotti, un'autoscala e un furgone per il trasporto di bombole di aria compressa per rifornire gli autorespiratori utilizzati dal personale per accedere nello stabile invaso dal fumo. L'incendio ha interessato un'ampia area del capannone in cui erano stoccati numerosi sacconi contenenti materiale plastico triturato. Durante l'intervento i vigili del fuoco hanno affrontato le fiamme con gli idranti in dotazione all'autopompa alimentata con le autobotti che si sono rifornite presso un vicino stabilimento. Il forte sviluppo di calore ha provocato il danneggiamento del solaio di copertura della zona interessata dall'incendio oltre alla fusione dei lucernai in materiale plastico e la caduta di gran parte dei neon dell'impianto di illuminazione. Il denso fumo ha provocato l'annerimento di pareti e solai del capannone, di alcune attrezzature ed automezzi presenti all'interno dello stabile. L'intervento immediato dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si estendessero all'intero capannone. Sono comunque ingenti i danni che restano da quantificare sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, dice Lino Attanasio.